buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds review la mia rubrica quotidiana in cui come sapete vi parlo degli album che più mi hanno colpito oggi però non vi parlo di un disco ma vi parlo di un libro si intitola il jazz e le arti è stato pubblicato da arcana e scritto da guido michelone un bravissimo studioso e critico di jazz il libro interessante perché michelone corrella jazz con le altre varie arti ma anche con la moda quindi l'abbigliamento con l'architettura con i documentari eccetera 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 molto molto ingegnosa interessante ogni capitolo prevede una serie di esempi per approfondire il tema e in più al fine del libro cioè questa in appendice questa bellissima cronologia comparata in cui michelone per ogni anno della storia del jazz dal 1917 a oggi ha scelto un brano e poi racconta elenca che cosa è successo nelle altre arti un libro davvero davvero molto bello che vi consiglio di leggere come sempre vi chiedo se vi piace il format ed iscrivetevi al canale youtube e come sempre ci vediamo la prossima puntata ciao